Un proprio intanto nel cervello, ve lo dico, non l'ho capito bene perché Sgarbi capisca che un quadro o un'opera sia di una donna o di un uomo, per me l'arte dovrebbe essere al di là del sesso e al di là del genere, però questa è una mia personale opinione. Finalmente, finalmente, perché io amo l'arte e in ogni paese che sono andata, è tenuta così largo, solo in questo paese appunto, che abbiamo troppo e lo diamo per scontato e soprattutto questi nuovi, sempre la nuova generazione che si può sconfermare, che puoi dare l'opportunità, è meraviglioso. Viva le donne! Allora, conosco Salvo da parecchi anni e con lui abbiamo fatto diverse sfide, diverse battaglie per promuovere l'arte, perché l'arte è assolutamente fondamentale per qualsiasi espressione, dalla musica alla pittura, qualunque l'espressione sia. Una cosa volevo dire prima che un paese come l'Italia, visto che stiamo parlando di l'Italia, siamo tutti orgogliosi di essere italiani, ha un ministro della cultura, ne dovrebbe avere almeno tre per quanto è importante l'Italia, ma siccome venga anche di turismo, non c'è un ministero del turismo. Cioè vi rendete conto? In Italia, crediamo che tutti arrivino in Italia per vedere le nostre quali, non c'è un ministero del turismo. Una battuta. Una battuta sulla Biennale, chiaramente sono più che favorevole, perché abbiamo tentato addirittura di fare una cosa insieme a Rio del Janeiro, per cui Salvo lo sa, e quindi sono felicissimo che ci sia questa opportunità, che duri solo quattro giorni e mi sembra un po' poco. Cinque. Pagato questi palazzi. Dopodiché, che si sposti in una location più grande per accogliere ancora più persone per un numero maggiore di giorni, è assolutamente auspicabile. Massi, che era potuto finire nella Milano di Camera, per favore. Mettere al centro le donne di questa Biennale non è la vera rivoluzione, è la normalità. In un paese che le donne le mette ancora oggi, anche se pensate sugli stipendi, in secondo livello rispetto ai maschi, credo che sia la cosa più importante di questa straordinaria Biennale. All'accordo. All'accordo. L'accordo. Venti i ciletti, possiamo trappare una promessa? Possiamo portare gli artisti in trasmissioni? Datti il microfono? E non sei questo? Sai che le promesse... Io se ne faccio le dovo mantenere, quindi fammi meditare... Era un nì, un nì, dai, già un inizio. Ringraziamo in anticipo che ho avuto gli artisti che erano le ciletti. Il problema è già escludio. una partita sul Milano di Milano è giovane tu che sei di Milano sei una io sono una milanese quindi vorrei vedere bellissima iniziativa Milano l'arte è sempre più come dice un po' Morgan è sempre più viva quindi sempre nelle strade perché credo che là ci sia sempre più bisogno dell'arte proprio per combattere questa digitalizzazione questo richiudersi in un mondo parallelo oggi abbiamo bisogno invece di umanità e l'arte è il vero senso di umanità il compasso che fa girare le nostre anime, i nostri cuori che paese straordinario saremmo se non fossimo stati sfortunati se non ci avesse rovinato la guerra però siamo fortunati perché abbiamo 800 opere qua dentro godiamocene e speriamo che ci fissiano 1800 l'anno prossimo questa è la verità questo è il numero di paese reali che ci si sfonda per un futuro in cui le donne possano anche dire la messa ecco è una bocchina semplice no no è una cosa il Milano è un'idea cioè sei da solo a Venezia per le lobby e l'abbiamo portato a Milano e sei sempre più grande allora qui c'è il tema è l'arte e democrazia giusto? oggi io direi che l'artista è eletto dal pubblico dal popolo in quanto rappresentante dei sentimenti e allora questa è una missione che deve avere l'artista rappresentare i sentimenti delle persone questa è la democrazia dell'arte ho visto che a un certo livello trovi della gente straordinaria che lucro un po' più uguale non sono un po' più uguale della gente straordinaria che non ha voce perché una volta fa delle vite infame che salta la mattina che sarebbe lavorato quante donne lui ha dato la parola a questa gente ha dato la parola a questa gente agli artisti di questo livello ed è un grande merito perché non ha dato la parola a tutti ma a coloro che in qualche modo facevano che creavano perché noi abbiamo anche bisogno di eccellente non è il migliore dei molti possibili c'è sempre stata l'oppressione però noi dobbiamo comunque avere una meta elevata lui ha dato la parola a questi artisti e noi ti ringraziamo e loro ti ringraziano grazie a tutti grazie a tutti